Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura la politica, il capogruppo al Consiglio Comunale di Pescara per il Partito Democratico, Marco Presutti, respinge al mittente le voci su dissidi interni al Partito Democratico rispetto all'appoggio al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e rispetto ad un paventato rimpasto di giunta. Questa mattina c'è stato un Consiglio Comunale dai Toni Caldi. Allora andiamo a seguire insieme questa intervista a Presutti con Paolo Rezzetti. Il centrodestra continua a chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini, sostenendo che c'è una spaccatura anche all'interno della maggioranza nel Partito Democratico, proprio sul destino del sindaco e anche sul futuro del sindaco di Pescara. Lei cosa risponde? Il centrodestra evidentemente che sta all'opposizione vorrebbe avere una chance per mutare il verdetto degli elettori. Questo va benissimo. Detto questo non bisogna inventare la realtà. L'amministrazione va avanti, tutto il partito lo ha ribellito nelle riunioni ufficiali degli organi, l'Assemblea provinciale, l'Assemblea cittadina che si è fatta venerdì, esprime consenso e fiducia al sindaco e quindi mi pare che non ci sia questa questione. I rumors però riferiscono di qualche voce discordante, anche un possibile rimpasto di giunta potrebbe essere conseguenza di qualche malumore. Esiste la questione che c'è da tempo della questione della delega urbanistica che inizialmente il sindaco aveva riservato per sé, anche per via del fatto che c'è stata una riduzione al numero degli assessori, prima gli assessori del Comune di Pescara erano 14. Siamo passati a 9, quindi nella costruzione dell'aggiunta, per non appesentire le deleghe di alcuni assessori, il sindaco aveva riservato per sé questa delega. Ora, evidentemente, forse è opportuno che si individui un assessore che si occupi di questa materia, ma è una esigenza politico-amministrativa, non è la conseguenza di fibrillazioni politichette, insomma. Questa è la posizione del centrosinistra, mentre il centrodestra continua a chiedere le dimissioni del sindaco. Le motivazioni le conosciamo, insomma una città all'abbandono, secondo gli esponenti di Forza Italia del centrodestra, e soprattutto il problema del mare inquinato. Questi, secondo gli esponenti azzurri, sono i motivi per i quali il sindaco dovrebbe dimettersi e lasciare l'amministrazione comunale. Ascoltiamo. Centrodestra compatto nel chiedere le dimissioni del sindaco Alessantrini. Consigliere Rapposelli, una richiesta che avete fatto nelle ultime ore e che ribadite anche oggi in Consiglio Comunale. Io credo che sia un atto scontato e doveroso per noi chiedere le dimissioni del sindaco Alessantrini, visto anche gli sviluppi che si stanno verificando in questi ultimi giorni. Un sindaco che purtroppo per lui, ma che noi già avevamo denunciato da tantissimo tempo, sta iniziando a perdere pezzi anche all'interno della maggioranza, sta iniziando a perdere la fiducia non solo dei consiglieri comunali, ma anche dei consiglieri regionali, fino anche del governatore della regione Abruzzo. Un comune che sappiamo tutti quanti, lo vediamo sotto gli occhi di tutti, che è a pezzi. Il degrado della città oramai è all'ordine del giorno e i cittadini pescaresi veramente non ce la fanno più. Il mare sappiamo com'è, è inquinatissimo il turismo. I dati rispetto a qualche giorno fa sembrano migliorati? Ma non è tanto una questione, innanzitutto speriamo che i dati migliorino, migliorino più che altro per i cittadini pescaresi, per il turismo di Pescara e per il commercio e per i ballenatori tutti. Ma soprattutto quello che noi denunciamo è che oggi come oggi il sindaco deve fare un gesto elegante, deve tornare sui suoi passi. Lui già lo doveva fare l'anno scorso, già si doveva scusare con tutti quanti i cittadini pescaresi per quello che è successo l'anno scorso. Credo che oggi il sindaco veramente debba rassegnare le sue dimissioni e dare retta veramente a un consiglio che è il nostro, veramente un consiglio perché sta perdendo anche la faccia. Con la firma di questa mattina in prefettura di Teramo, cambiamo argomento, è stato istituito un presidio stagionale dei Vigili del Fuoco per il soccorso acquatico nella città di Roseto degli Abruzzi, presidio che servirà un po' tutta la costa teramana. Elisa Leuzzo. Quello di oggi è il primo protocollo del genere in Abruzzo, come funzionerà tecnicamente? Beh, tecnicamente funzionerà che tutti i fine settimana, iniziare dal prossimo, quindi di sabato e di domenica, compreso la giornata di ferragosto, per 21 giornate. Ci sarà una postazione, quindi un presidio acquatico dei Vigili del Fuoco, composto da equipaggi che possono intervenire sia con una moto d'acqua, ovviamente munita di barella, e sia con un gommone, quindi per tutte quelle necessità che purtroppo in questo periodo è particolarmente sentito e che i bagnanti possono avere, ma anche per alcuni aspetti, anche di microinquinamenti, quindi supportare la Capitaneria di Porta e la provincia, anche per aspetti talvolta collaterali a quelli del soccorso. La base operativa è il nostro centro polifunzionale di Roseto, dove abbiamo appunto una nostra postazione, ovviamente il raggio di azione è tutta la costa teramana, pertanto normalmente verrà pattugliata la mattina la zona sud o nord, e ovviamente il pomeriggio viceversa, quindi tutta la costa teramana verrà ovviamente supportata da quest'ulteriore presidio, ovviamente sempre con il coordinamento sotto l'egida della Capitaneria di Porto, che ricordiamo a cui spetta il coordinamento del soccorso in mare in genere. Lo aveva già annunciato il giorno del suo arrivo, più sicurezza? Più sicurezza per la collettività, più sicurezza in termini non solo di ordine e sicurezza pubbliche e di salvaguardia in quel senso, ma proprio tutela dell'incolumità delle persone. È in questo senso che va a questa azione, che è un'azione sinergica tra diversi soggetti, tra un ente territoriale come la provincia e lo Stato, attraverso i vigili del fuoco. Presidente, una convenzione importante è quella di oggi, dopo i fatti di cronaca la domanda nasce spontanea, perché ora e non prima, anche perché è il primo protocollo in Abruzzo questo? No, ci abbiamo lavorato da qualche mese, ci stavamo lavorando e proprio per evitare di perdere quest'annata la provincia si è fatta carico anche del costo dell'iniziativa, che è molto importante. È un'iniziativa che riguarda tutti e sette i comuni della costa Terramano, anche se naturalmente la base dei vigili del fuoco sarà a Roseto. Per cui dall'anno prossimo lo renderemo strutturale, coinvolgendo tutti i comuni. Io continuo a ribadire, al di là della questione della sicurezza, che i sette comuni della costa Terramano devono iniziare a lavorare ancora di più in maniera sinergica per ottenere un'offerta di qualità e sicura, naturalmente, tutti insieme. Nel servizio si faceva riferimento alla bimba annegata nei pressi della Torre di Cerrano, Nicole Tonutti. A Pineto ci sarà un momento di lutto dalle 17 alle 18, nell'ora in cui ad Udine si svolgeranno i funerali della bambina di 5 anni, annegate in mare nei pressi della Torre del Cerrano, come vi ho ricordato in precedenza, nel pomeriggio di mercoledì scorso e quanto ha deciso l'amministrazione comunale di Pineto, in segno di vicinanza alla famiglia, oltre ad abbassare la bandiera a mezz'asta nell'orario dei funerali, il Comune chiederà alle attività commerciali della città di raccogliersi in un momento di silenzio e di sospendere ogni attività ludica. Inoltre, alle 18.30 presso la chiesa di Sant'Agnese si svolgerà una messa in ricordo della bimba. Andiamo avanti. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Marcello Antonelli, ha spiegato perché è stato chiesto l'accesso agli atti sulla nomina del nuovo amministratore unico di Attiva S.P.A., società che si occupa della gestione dei rifiuti nella città di Pescara, Massimo Papa. Vediamo. Antonelli, avete chiesto l'accesso agli atti per la nomina dell'amministratore unico della società attiva, Massimo Papa. Perché? Perché riteniamo che le procedure seguite dall'amministrazione non siano corrette, semplicemente. Quindi non c'è nulla di personale ovviamente nei confronti del Dottor Papa, su cui poi ci esprimeremo quando avrà assunto le funzioni eventualmente rispetto al lavoro che farà. Però le procedure seguite dal Comune di Pescara non sono né trasparenti né corrette, avendo fatto riferimento a requisiti assolutamente di carattere generale, probabilmente omettendo tutta una serie invece di richieste di requisiti che i pronunciamenti del Consiglio Comunale imponevano. Ma cosa ancora più grave è stata individuata una commissione per valutare i curriculum dei 15 candidati che avevano presentato domanda. Ora, questa commissione ha prima visto i curricula e successivamente si è dati i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Si capisce perfettamente che questo non è assolutamente corretto. Quell'attività andava svolta prima di prendere visione dei curricula perché qualche d'uno malintenzionato e cattivo potrebbe pensare che la cosa sia stata minimamente pilotata. Noi vogliamo che su questo si faccia chiarezza. Lo abbiamo chiesto al Sindaco, lo ha chiesto all'unanimità quindi compresi i consiglieri comunali di maggioranza la commissione di controllo e garanzia del Comune di Pescara. Le risposte fornite sono assolutamente parziali e non esaustive rispetto ai quesiti posti. L'accesso agli atti serve per avere a disposizione tutti i documenti e poi valutare se investire dalla questione l'autorità giudiziaria. Adesso parliamo della maturità. Oggi terza prova, il temuto quizzone. I 500.000 studenti italiani, 11.000 nella regione Abruzzo si sono cimentati nella prova ideata da ciascuna commissione d'esame che varia quindi da scuola a scuola. L'ultimo scritto dell'esame di Stato può essere strutturato in maniera diversa, avere una durata differente all'obiettivo di accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie studiate nell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. 6. Le tipologie di scelta da parte di ciascuna commissione, trazzazione sintetica, acquisiti a risposta singola, acquisiti a risposta multipla, problemi a soluzione rapida, analisi di casi pratici e professionali, di sviluppo di un progetto. Adesso andiamo all'Aquila. Prima del sisma erano mille le imprese commerciali che animavano la vita all'interno del centro storico. Oggi non si arriva nemmeno a 50. Servono dunque iniziative politiche mirate a rilanciare il commercio, così come dice il direttore di Confcommercio, l'Aquila, Celso Cioni. Daniela Rosone. Attualmente sono circa 50 le imprese che hanno riaperto le loro attività nel centro storico aquilano, o meglio nella cinta urbana. Commercianti e artigiani che hanno fatto sforzi notevoli per potersi ricollocare all'Aquila nel dopo sisma. Alcuni hanno riaperto nell'immediato dopo sisma e sono costretti oggi a doversi spostare di nuovo per poter permettere lavori di ricostruzione. 50 attività, un numero davvero ancora troppo lontano dalle mille imprese che nel 2009 popolavano il centro. Troppa burocrazia, tasse troppo alte, anche se il sindaco Cialente ha di recente parlato di incentivi per chi riaprirà l'attività in centro. Siamo ovviamente sotto 50 imprese rispetto alle circa mille che erano prima nella nostra cintura urbana. Siamo molto lontani, c'è uno sforzo, devo dire, positivo da parte delle risorse che derivano dai fondi per la ricostruzione, siamo attivi nel tavolo che la regione ha predisposto, ci sono diverse aziende che sono interessate a ricollocarsi nel centro storico, attendiamo però che queste misure e le disponibilità che per fortuna ci sono diventino anche con le norme di attuazione presto realtà. Purtroppo il divario socio-economico tra la costa e l'Abruzzo interno resta altissimo. Una buona possibilità è data dai fondi europei per il rilancio delle imprese delle zone interne, ma questi vanno gestiti bene, sicuramente meglio di come sono stati gestiti finora. Considerato che purtroppo il divario che separa sempre di più in maniera evidente le zone costiere dal nostro territorio interno dal punto di vista socio-economico hanno bisogno di politiche mirate che possano dare rilancio all'economia della nostra zona che peraltro ha avuto già un doppio shock quello che riguarda purtroppo il sisma del 2009 e la crisi poi che è derivata nel 2011, crisi che ha investito le nostre piccole imprese. Quindi lo sforzo a fare squadra è a individuare progetti e finalità socio-economiche capaci di dare risposta alla nostra economia abruzzese come sistema. Torniamo a Pescara. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini ha presentato un'interrogazione all'interno del Consiglio Comunale su un bando per l'assegnazione del primo piano del mercato coperto di Viale Muzzi agli artigiani, bando fermo da sei anni. Consigliere Alessandrini, avete oggi posto un'interrogazione in Consiglio Comunale per quanto concerne il mercato coperto di Piazza Muzzi sei anni fa era stato fatto un bando per assegnare il primo piano agli artigiani sono passati sei anni e questo bando è ancora lì. Esattamente, è proprio questo che vogliamo sapere. Dopo sei anni questa amministrazione ancora non risponde ai cittadini che hanno avuto assegnati 23 box che sono cittadini appunto che hanno cominciato a comprare il materiale perché si tratta di artigiani che quindi hanno speso già dei soldi e non hanno trovato altre location appunto in cui compiere la propria attività e stanno aspettando da sei anni di avere finalmente il contratto e l'assegnazione definitiva del posto quindi di poterlo effettivamente occupare. Abbiamo saputo che l'amministrazione quindi nella figura dell'assessore Cuzzi ha praticamente cercato sta cercando di modificare questa destinazione quindi eventualmente di destinare questi 23 box al food in particolare quindi a continuare appunto nella vendita di cibo e di bevande e chiediamo quindi all'assessore cosa intende fare chiediamo chiarezza per i cittadini che attendono e che sono stati contattati anno dopo anno per avere conferma che fossero ancora interessati ad occupare quei posti e se non è così appunto l'amministrazione lo dica chiaramente senza tenere più queste persone sul filo e in attesa di una speranza appunto che gli venga assegnato. Restiamo a parlare in qualche modo di economia ma parliamo dei balneari che chiedono un incontro urgente con il governo in particolare con il ministro degli affari regionali Enrico Costa entro il 14 luglio data in cui è attesa la sentenza della Corte di Giustizia europea sui vari ricorsi presentati contro la proroga al 2020 lo hanno chiesto oggi le regioni italiane in modo compatto riunite nel tavolo interregionale sul De Magno coordinato dall'assessore al De Magno della Liguria Marco Scaiola a questo punto anche alla luce della Brexit quello che chiediamo al governo ha sottolineato Scaiola e da un lato un testo di legge nazionale che tuteli i balneari in modo chiaro e parallelamente di riaprire i negoziati con l'Europa per rivedere la posizione troppo rigida sulla Bolche sta in il testo che il governo ha presentato in questi giorni anche a seguito delle pressioni regionali è stato comunque giudicato dal tavolo interregionale un punto di partenza su cui discutere e confrontarsi in vista di un suo miglioramento nel corso del prossimo incontro al fine di trovare una soluzione soprattutto per dissipare le nebbie sulla dicitura periodo transitorio all'interno della direttiva cambiamo argomento due giorni per discutere sul futuro dell'area dei comuni della Valfino venerdì e sabato prossimi appuntamento a Castiglione Messerraimondo con il progetto La vetrina delle città Valfino il progetto Città Valfino che è partito da un anno supportato dal Consiglio regionale dalla Giunta regionale ma anche da quel decreto barca che individua nelle aree interne e soprattutto in queste sei città che abbiamo messo insieme un ruolo determinante anche il Masterplan ha trovato spazio nella città Valfino con una dotazione di 8 milioni e mezzo per la ricostruzione delle strade il primo il 2 luglio faremo uno a due giorni in cui parleremo di tutte quelle attività di quelle capacità attrattive che ha questo territorio per molti anni un po' abbandonato ci saranno poi tutta una serie di interventi anche di tipo ambientale metteremo insieme i tre parchi che collegano in qualche maniera questo territorio dal Gran Sasso Montellaaga per Arsita i Galanchi di Atria il Parco Marino del Cerrano poi ci saranno tutta una serie di degustazioni dei prodotti tipici locali e spiegheremo quella che è la funzione della città Valfino di quello che può avere e di far conoscere perché ha molto ma è poco conosciuto ormai io credo che c'è il dovere dei comuni non solo piccoli ma anche meglio grandi di mettersi insieme è normale che lo devono fare quelle piccole realtà di cui non si chiede assolutamente l'abbandono dell'attività amministrativa in loco nessuno può mai pensare deve immaginare che tutto questo sia togliere i comuni ha preso il via presso l'Università degli Studi di Teramo un corso per formare esperti in grado di aiutare i consumatori e i piccoli imprenditori un corso per gestire la crisi nato grazie alla collaborazione tra Università e Ordine degli Avvocati gestire la crisi al via il corso per formare esperti in grado di aiutare anche i consumatori e i piccoli imprenditori da una legge del 2012 ora questo corso è importante per la formazione appunto degli addetti esattamente è molto importante vogliamo formare un numero elevato di professionisti che possano quindi riempire gli organismi di composizione della crisi per consentire a questo rimedio la meritata diffusione cioè questo è un rimedio che consentirà a piccoli imprenditori e a consumatori di potersi esdebitare cioè di liberarsi dai propri debiti di organizzare una procedura simile a quello che è il fallimento dell'imprenditore commerciale ma con delle agilievolazioni soprattutto per i consumatori che potranno ottenere questa liberatoria anche in assenza di accordo con i creditori ma facendolo omologare dal giudice in presenza di presupposti di merito potranno imporre diciamo il rientro convenuto ai creditori per sottolineare l'importanza ricordiamo cosa accade invece adesso per adesso invece non c'è nessun rimedio perché in mancanza di questo sistema il piccolo imprenditore o il consumatore non possono accedere alle procedure concorsuali le procedure di crisi anche quelle recentemente innovate sono limitate all'imprenditore commerciale recenti riforme del diritto fallimentare hanno imposto anche delle soglie per cui non tutti gli imprenditori sono soggetti al fallimento ma solo quelli che hanno un certo volume di requisiti quindi i piccoli imprenditori non hanno tutela e questo è lo strumento di tutela di piccoli imprenditori e di consumatori per la prima volta tutti gli ordini abruzzesi si sono messi insieme per poter da vita insieme all'università di Teramo a questo corso quindi questo è importantissimo perché nessuno è andato per conto proprio quindi acquisisce sia forza e anche insomma dal punto di vista di credibilità assume maggiore rilevanza importante anche per i giovani evocati importante perché potrebbe essere un nuovo canale da seguire perché una volta che in pratica vengono fatti questi elenchi i magistrati potranno attingere a questo elenco per poter in pratica affidare loro incarichi giudiziari restiamo a Teramo il comitato provinciale dell'Arci presenta rete dei festival indipendenti teramani un progetto che mette insieme i festival in scena da anni nel territorio dalla montagna alla costa al via rete dei festival indipendenti teramani un progetto che raccoglie festival già esistenti nel territorio da anni finalmente riusciamo ad ospitare e a mettere insieme delle associazioni del territorio che hanno una storia ormai festival che si svolgono da diversi anni per promuovere nel miglior modo possibile nelle cornici dove vengono ospitate e vogliamo ricordare le singole città si passa dalla montagna al mare quindi da Tosticia a Cologna e Spiaggia e fino alla Vibrata con l'indivisibile festival che viene fatto a Torano e a Notaresco nel Vomano il Play Not Festival all'interno abbiamo quindi appuntamenti che si svolgono da dieci anni come il Toxic City fino al Play Not che è al suo quinto anno o l'indivisibile al sesto anno e lo Iame che è l'ultimo appuntamento che faremo nel nostro capoluogo di provincia che è la sua terza edizione si parte quindi il primo e il 2 luglio col Play Not Festival edizione a Notaresco qual è il programma della due giorni? è la quinta edizione ci tengo a dirlo perché in questi tempi è difficile organizzare quindi con molti sacrifici riusciamo ogni anno a portare avanti questo progetto mi fa piacere inaugurare questo nuovo percorso con altri festival un'iniziativa lodevole e speriamo di portare avanti anche negli anni anzi allargare il più possibile ad altri festival sì iniziamo venerdì prossimo primo luglio ci saranno gli Anudo diciamo che la prima serata è verte più sull'elettronica per quanto riguarda il palco grande con Anudo e The Natural Dub Cluster che sono due gruppi indipendenti che stanno facendo tour europei e quindi tornando in Italia si fermano anche da noi e ci sarà anche un piccolo stage invece semiacustica ad ora di aperitivo mentre il sabato sarà la volta degli Anudo una band punk rock che adesso si sta facendo valere anche negli Stati Uniti con un mese e mezzo di tour quasi tutti i giorni sold out e adesso lo sport iniziamo dal calcio di Serie A dal mercato del Pescara che continua i contatti per l'attaccante Mattias Suarez dell'Underlecht anche se c'è da colmare la distanza tra domanda ed offerta tra i club stamattina intanto è sbarcato in Abruzzo il nuovo acquisto biancazzurro Brian Cristante il servizio di Jacopo Forcella Ceduto la padula il Milan il Pescara ha chiuso per Brian Cristante che sarà il primo acquisto della nuova stagione in casa biancazzurra arriva in prestito dal Benfica il giocatore Scuola Milan è stato richiesto espressamente dal tecnico Massimo Oddo e già stamattina ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto con la società biancazzurra in realtà quella di Cristante è la seconda operazione vera di mercato in entrata perché anche la conferma di Valerio Verre su cui l'Udinese non ha esercitato il contro riscatto rappresenta un investimento per il futuro con il ragazzo che oltre al gol decisivo di Trapani ha fatto vedere che in A ci può stare come c'è ancora distanza invece tra Pescara e Anderlecht per Mattias Suarez lui l'accordo con il Delfilo ce l'ha da giorni ma l'offerta del club di Daniele Sebastiani un milione per il momento si scontra con la richiesta dei Belgi fermi a 4 insomma c'è ancora da lavorare per limare la distanza per portare in Abruzzo quello che dovrebbe rappresentare l'erede proprio di Gianluca la padula ma Suarez in scadenza e potrebbe scegliere la sua prossima destinazione Caprari interessa ancora al Napoli che però dovrebbe lasciarlo in Abruzzo con i partenopei ci sarebbe la possibilità di acquisire insieme e portare in Italia l'attaccante colombiano del Deportivo Calì Harold Presiado classe 1994 assistito da Riccardo Calleri il prezzo di quelli importanti 7 milioni di euro in settimana invece potrebbe esserci un incontro per Albano Bizzarri che rimane un obiettivo concreto per la porta del Pescara Atalanta e Cagliari intanto fanno un pezzerino a Michele Fornasier per importare il reparto arretrato ma bisognerà valutare quanta disponibilità ci sia in casa Biancazzurra di privarsi di uno degli artefici della promozione Scendiamo in Lega Pro continua ad essere un mese di giugno a due marce per Teramo e Virtus Lanciano se i biancorossi sono in pieno allestimento dell'organico in mattinata è arrivata la firma del difensore Altobelli dal Pescara i frentani sono ancora alle prese con l'organigramma e la scelta del nuovo allenatore il punto è di Andrea Costantini prosegue il giugno a due marce per le abruzzesi di Lega Pro se il Teramo è nel pieno dell'allestimento dell'organico la Virtus Lanciano è ancora alle prese con la strutturazione dell'organigramma societario nelle prossime ore si definirà l'interruzione del rapporto con il DS Luca Leone che è già all'opera per la sua nuova squadra il Pescara solo successivamente si provvederà alla nomina di Claude Di Meno di Bucchianico a direttore sportivo anche se il ruolo più operativo lo avrà l'agente Matteo Materazzi il fratello del campione del mondo Marco e figlio dell'allenatore Giuseppe sarà consulente di mercato ma anche egli è già all'opera ed ha consigliato due nomi alla famiglia Maio in cima alla lista c'è Pippo Pancaro reduce dalle esperienze sempre in Lega Pro alla Juve Stabia e al Catania dagli etnei è stato esonerato lo scorso mese di marzo il secondo nome è quello di Enrico Chiesa l'ex attaccante ha iniziato in Abruzzo la sua brillante carriera agronistica con Teramo e Chieti e potrebbe iniziare in Abruzzo anche l'attività di allenatore dopo alcune stagioni con la primavera della Sampdoria nel ruolo di direttore generale ci sarà Michele Lascala già uomo marketing al di là di tutto si aspettano ulteriori segnali dalla proprietà nella settimana che dovrà portare all'iscrizione al prossimo campionato sul fronte Teramo sono quattro gli innesti già ufficializzati i centrocampisti Carlo Ilari e Federico Carraro l'attaccante Antonio Croce e proprio questa mattina il difensore Mattia Altobelli classe 1995 dopo la stagione scorsa a Macerata il giocatore arriva a titolo definitivo dal Pescara e si lega al Diavolo con un contratto triennale scadenza giugno 2019 i nodi principali da sciogliere sono Tonti e Scipioni il portiere e il terzino sono reduci da un campionato tutt'altro che positivo i prossimi giorni saranno importanti per conoscere le reali intenzioni dei due calciatori su cui il Teramo potrebbe ancora puntare magari sfruttando la loro voglia di rivalsa intanto è caldo l'assa con il Pescara dal quale il Teramo potrebbe avere in prestito anche il difensore Francesco Carcalis innesto che darebbe la giusta completezza al pacchetto arretrato a disposizione di Zauli alla luce anche dell'imminente accordo con il capitano Ivan Speranza che sposerà nuovamente il progetto Biancorosso per il reparto nevragico si attendono sviluppi per il regista Davide Peterman del Palermo lo scorso anno a Sant'Arcangelo per l'attacco Marco Sanzovini è più di una suggestione arriverebbe in prestito dal Pescara ma decisiva sarà la volontà del calciatore di non voler appendere gli scarpini al chiodo e continuare ad essere protagonista in campo nonostante le 36 primavere in serie di l'Aquila ha preso ancora alcune ore per attendere la decisione del tecnico Massimo Morgia che potrebbe liberarsi dal Siena in alternativa panchina affidata a Feola sul tacquino delle DS Battisti ci sono già alcuni nomi per comporre la nuova rosa Germana Dorazio è iniziata una settimana che dirà molto sull'Aquila Calcio della prossima stagione è atteso infatti a breve il nome del nuovo tecnico che siederà sulla panchina aquilana l'Aquila Calcio attende la risposta del tecnico Massimo Morgia che potrebbe liberarsi dal Siena e che è fortemente voluto anche dalla piazza se Morgia dovesse dire no al direttore sportivo Alessandro Battisti c'è già pronta l'alternativa il tecnico dovrebbe essere Vincenzo Feola che potrebbe portare come suo vice l'ex difensore rosso-blu Alessandro Cagnale sul tacquino del direttore sportivo ci sono già dei nomi contrattative ben avviate ma per l'ufficialità si attende il prossimo 2 luglio giorno di apertura delle liste il DS vorrebbe portare al rosso-blu l'attaccante Titone ma il richiamo del Piacenza è forte e probabilmente il giocatore non intende scendere di categoria potrebbe tornare a giocare all'Aquila anche l'ex attaccante di Fermana Taranto e Amiternina Ernan Molinari ma molto dipenderà dal modulo con il quale sceglierà di giocare il nuovo tecnico Aquilano si segue anche Nicola Fiore giocatore che Battisti conosce molto bene piace anche l'attaccante Giuseppe Meloni classe 85 spesso capo cannoniere in serie D si sta decidendo anche per il portiere ma è certo che sarà un under ed ora la palla a nuoto che torna protagonista a Pescara grazie al successo della squadra femminile dell'Original Marines che ha conquistato la promozione in serie A1 ieri grande festa le piscine all'Enaia dal termine di una tiratissima seconda partita nella quale le pescaresi guidate da Tommaso Cianfrone si sono imposte per 5 a 4 con una rete di Vidonis ad un minuto dalla fine che ha spezzato la parità l'Original Marines ha così bissato il successo centrato nella prima partita a Firenze un trionfo firmato da una squadra molto giovane che è cresciuta con il passare della stagione è tutto per questa prima edizione del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata aатели o po' i o i a